via allora stavamo dicendo allora stavo dicendo appunto che quando vogliamo duplicare questo progetto perché vuoi fare delle modifiche come in questo caso non so vuoi togliere i tubi però è un peccato modificare il progetto questo no perché dopo non puoi più tornare indietro per cui allora ti suggerisco di duplicarlo cioè di fare di tenere questo progetto a sé stante e poi di farne un altro in modo tale che poi modificare aggiungere togliere in modo tale che hai due progetti insieme no quindi come si fa questo va bene come progetto vogliamo fare un altro modificarlo quindi lo duplichiamo per duplicarlo la soluzione più veloce è questa pack and go cosa fa pack and go prende tutte le parti e gli includo i disegni mi aggiungo una di solito aggiungo un prefisso a tutti i file lo so questo secondo progetto possiamo chiamarlo pr progetto 2 per esempio pr2 trattino ok si ok pr2 adesso ricodifico tutto vedrai che qua viene tutto di verde perché lui ha messo ha messo il pr trattino 2 ok e poi a questo punto lo metto lo posso mettere all'interno della stessa cartella oppure un'altra cartella ma indifferente in questo momento posso mettere anche la stessa cartella per cui ricordiamoci il nome pr2 ok e poi faccio che cosa faccio un bel salva lui adesso sta prendendo tutti i file ricodifica con pr2 e duplica di fatto il progetto in questo modo il secondo progetto che noi apriamo possiamo modificarlo quindi questo vedi che non l'ha non l'ha cambiato qua noi adesso si fa il contro e andiamo qua e andiamo qua a prenderci i progetti vedi che c'è pr2 e postazione vedi pr2 postazione ok noi ci apriamo il secondo progetto e tutti i file sono separati perfetto quando uno non va a modificare l'altro esatto esatto questo è importante a questo punto noi cosa facciamo ci apriamo il pr2 e facciamo le modifiche che ti interessano che desideri ok certo ok per cui adesso ci prendiamo questo mettiamo qua ok e se tu vuoi vedere a fianco le finestre a fianco finestre vai qua col control 7 esatto a questo punto io di solito cosa che suggerisco mai per vedere le differenze posso fare un super assieme possiamo dire un'assieme che comprende due sotto assieme no l'assieme padre diciamo dove ci metto dove ci metto le varie versioni qui faccio un bel control new assieme apri affianco le finestre ok prendo il pr il primo progetto questo lo prendo e lo metto qui poi vado su altra finestra chiudo questa perché non mi interessa chiudo la seconda perché non mi interessa e mi tengo il file principale cioè quello diciamo la semipadre no? control v salvo e chiudo h f ok a questo punto mi do questo e questo li tengo coincidenti per avere a fianco questo e questo li tengo coincidenti in questo modo le macchine mi si affiancano io posso fare un confronto un mano a mano qua davanti no? f ok c control 7 e fai un control s salva e lo chiami ad esempio di solito gli è semipadre io li chiamo con 00 trattino generale per quale motivo per quando tu li metti in ordine alfabetico 00 salta fuori il per primo ah quando li metti in ordine ok si si cioè c'è anche una ragione proprio di facilità tutti 00 01 02 io li metto quando li metto in ordine alfabetico vengono come primi buono perfetto adesso cominciamo a fare la modifica vedi che se vai qua e fai shift c hai la postazione originale e il pr2 che andremo a modificare ok e li possiamo modificare in tranquillità sapendo che non andremo a a modificare il progetto originale ok quindi aspetta questo qua lo posso chiudere che non mi interessa scusa questo qua lo posso chiudere ok eh buono quindi tu stavi dicendo questo non lo vuoi mi sembra si tiriamo via tiriamo via perché ok ok allora questo lo togliamo può proprio eliminare quello questo qua lo togliamo aspetta un secondo che chiudo la finestra perché fa un freddo aspetta ok eh allora poi che altre modifiche vogliamo fare allora il T quello che prima comprendeva anche il tubo il tubo che andava verso la struttura quello lì rosa e rosso ah questo ok chiaramente se il tubo non c'è è inutile che questo qua lo mettiamo giusto si mettiamo un altro di quelli lì che c'è sulla parte anteriore ah ok diventa un altro giusto questo viene spostato qua corretto si la copia ma pari pari o è diverso perché mi sembra che l'altezza come altezza è identico se non sbaglio no è soltanto il collare che è più alto che non è stato inserito fino in fondo nel disegno ah hai ragione si è vero si va bene quindi questo io lo posso cancellare d'accordo? si quindi questo qua via cancella questo qua lo cancello via questo qui non ci serve via giusto? esatto questo qui non ci serve via delete poi questo si sposta lì quello lì resterà perché deve andare diciamo ok va bene allora facciamo così questo che è questa parte qui abbiamo due possibilità o lo trasciniamo nell'assieme diamo il copiamento oppure lo ripetiamo in questo caso preferisco io allora apri control tiri dentro e lo duplichi in questo caso preferisco usare gli occupamenti per cui cosa faccio? mi serve questo mi serve questo vai col destro faccio isola ok? perché il resto mi disturba si mi disturba anche un po' la radical comania perché faccio fatica a vedere i fori vabbè pazienza ce la teniamo questo questo poi con questo vi hanno detto che è un coincidente e insuliamo gli occupamenti no? insuliamo i fori esatto esatto per cui i fori sono questi un foro qua tra l'altro se tu premi alt vai sulla faccia premi alt e trascini vedi che compare la spilletta compare la spilletta perché dà l'accoppiamento automatico vedi? fai confermi è un accoppiamento veloce a questo punto vai qui aspetta che era qua mi sembra eccolo qua fai questo e questo concentrico perfetto a questo punto anche dall'altra parte sì ha senso io ho messo in questo modo perché di qua di là ha senso sì questo qua per dimbollirlo sì ok va bene a questo punto cosa fai? vai qui vai qui prendi control e lo duplichi anche di qua quindi questo diciamo che possiamo copiarlo con questo ok e poi possiamo dire che questo questo è quello e questo è un bel concentrico ok perché vedi che ha ancora un grado di libertà vedi? ok quindi facciamo col control questo e questo concentrico buono perfetto esci da isola e possiamo andare avanti qui fai un esc fai un ctrl set fai un ctrl s per salvare e qua ci siamo sì e ci rimane da capire qui una cosa ecco io qua di cambiare il colore perché di cambiare il colore? perché essendo quel blu sembra quasi che è ecco facciamo un bel rosa applica alla parte perché essendo blu mi sembra che sia sempre selezionato capito? solo per questo selezionativo perché quel blu viene usato allora uno due come mai questo quando si colora diversamente non è la stessa istanza no? P15 questo invece è il ranella da 10 non è lo stesso codice questo qua è possibile? no dovrebbe essere evidentemente no perché questo mi sembra che lo chiama P15 sì P15 che è questo l'altro invece se è lo stesso codice P15 dovrebbe essere uno specchia una specchia tua è uno specchia di un sì è lo specchia ma di un altro non capisco sì è il tubo di prima forse sì sì no aspetta un secondo eh questa forse perché non ha sai perché forse non ha preso ehm non ha preso ehm forse ehm le proprietà visuali non era abilitata questa opzione propaga da parte originale le proprietà visuali probabilmente non era abilitata questa opzione e non si è trascinato il colore quando ha fatto lo specchia no no io per sicurezza la ripeto perché non so non capisco il motivo dovevo trovare dovevo ve lo stesso colore guarda ci metto un attimo sì ci metto proprio un attimo guarda faccio così prendo questo cancello prendo questo cancello ok ctrl s questo è lo stesso sì e va bene adesso prendo il piano il rispetto al piano di mezzeria credo che credo che era questo il piano di mezzeria sì beh sì no no non era questo ma era questo qua probabilmente eccolo qua allora io qua faccio F2 lo chiamo mezzeria per distinguerlo mezzeria ok perché se io vado a misurare per essere sicuro vado a misurare sì sì dal piano di mezzeria voglio essere certo che passa per la mezzeria no ah qui ho 340 348 e 14 e vado il piano di mezzeria a qui è 348 e 14 che è giusto ok perfetto quindi quella è la mezzeria perfetto buono eh quindi adesso che la faccio inserisco gli specchi e quindi inserisci sì eh cosa inserisco inserisco una ehm 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 mi trovo un po' di guarda qua che non vedo qua inserisco specchi componenti sì specchio ehm ehm specchio rispetto a quale piano vado giù e circolo il piano di mezzeria questo piano vedi e dopo qua mi chiede quali componenti voglio specchiare uno e due e due e due confermo ehm mi chiede ulteriormente se è mano opposta in questo caso non è mano opposta proprio è lo stesso giusto no? ehm sì in realtà sarebbe mano ehm no sì perché i fori della vite dovrebbero andare dall'altra parte però vabbè dovrebbe avere un po' perché io ho i fori da questa parte qua ehm e di la dovrei avere di la dovrei averli a destra dovrei averli ah dall'altra parte ho capito quindi dovrei girarlo ai 180 gradi sì 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 ho capito vediamo un po' però glielo posso dire anche a fase di realizzazione no no aspetta facciamo così aspetta un secondo così li vuoi ehm sì vedi che lui ha trovato ci sono quattro soluzioni questa è la terza soluzione vedi che i fori le lamature le messe dall'altra parte sì dall'altra parte sì ok perfetto così li vuoi così le messe dall'altra parte è indistinta no aspetta aspetta c'è un errore c'è un errore perché vedo il rosa l'ha girata sotto sopra allora non è questa soluzione ma ancora allora allora non è questa soluzione ma è guarda allora andiamo avanti qui questa no questa no no c'è una cosa che non va la una soluzione e deve essere per forza questa ma ehm a me sembra di ricordare che io facevo ehm allora guarda crea visioni manoposta e lui la faceva sì attenzione perché si fa manoposta però lui ti crea un nuovo codice attenzione cioè indistinta se fai manoposta ne hai due destri e due sinistri eh attenzione allora se vuoi evitare questi problemi cioè e vuoi essere sicuro di che sia effettivamente lo suo pezzo ehm cancella questo ti metti le coppiamenti e controlli subito cioè ci metti un attimo fai così guarda prendi questo se tu dici no io voglio che sia lo stesso prendi questo prendi questo isoli prendi questo magari vai col destro isoli ok ti prendi questo cioè lo monti proprio ehm lo monti proprio ehm nella come se fosse la realtà per cui ti prendi il tuo col contro lo trascini e così controlli subito se vengono questa cosa vedi tu lo vuoi così vero? no ehm si lo voglio così ma siccome c'è la battuta in alto ehm infatti qua dici esatto non posso metterlo così devo per forza fare un altro pezzo con i fori dall'altra parte allora monoposta si con l'asola dall'altra parte allora con questo col fermo dall'altra parte eh sì allora è vero è monoposta sono due no no allora sì è uno sx più uno di x cioè uno destro e uno sinistro esatto sì ma per evitare questo non possiamo toglierla questa asola qua eh no no perché deve andare in battuta su quando lo inserisco deve andare in battuta su tutto perché c'è la c'è la lamatura qua sì ma scusa e se togliessimo la lamatura invece e il dado lo facciamo sporgente no sta male no no ok d'accordo sì sì allora è davvero uno destro e uno sinistro mmm sì allora è proprio vero quindi niente come ho detto facciamo mezzeria allora per fare il destro e sinistro si fa così mezzeria inserisci eh scusa eh eh mezzeria inserisci specchio rispetto alla mezzeria ne inserisci sia questo allora sì è vero sono allora sì questo avanti scegli mano opposta mano opposta questo e mano opposta questo eh a questo punto vai avanti ancora e cosa gli dici gli dici io ti suggerisco questo modo di lavorare ti suggerisco di fare personal cosa che faccio di solito personalizzato lui cosa fa nel personalizzato prendi il nome del file e gli aggiunge un 1 eh in questo mondo distingue eh io 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 cosa te lo faccio dopo il 15 gli metto s che sta per specchia specchia 1 sì e anche qua aspetta eh eh personalizzato un secondo un secondo davanti PR2 15 s1 1 e 2 eh aggiungi profisso aggiungi profisso aggiungi un suffisso specchiatura eh suffisso no eh facciamo personalizzato personalizzato va bene avanti e poi fai conferma ok guarda come li ha nominati gli altri file guarda come li ha nominati guarda come li ha nominati vedi s1 vedi sì mentre quello originale si ferma al 15 ok sono due parti diverse uno sinistro e uno destro buon fatto quindi a questo punto che cosa facciamo adesso dobbiamo mettere in linea i due tubi anteriori che erano leggermente esatto conici nel disegno dove c'è la piastra di supporto del volante quindi facciamo un bel control 7 facciamo un control s eh guardiamo l'assieme generale ah ok per cui no questo qua è una cosa in più che avevo fatto ah che hai fatto ok sì allora mi serve da vedere questo sicuramente no sì no questo qua era la si può cancellare cioè io volevo fare un po' di un po' di pulizia nel disegno e avere solo la roba che serve per non avere per non avere questo ci serve no lo possiamo tirare via per adesso se tanto vi resta nell'altro disegno sì esatto io direi lì siccome siccome ti rimane nell'altro disegno cancella la roba che non serve sì ok vai tira via tanto la sala d'idea quella lì è una bocca sì sì allora niente cancelliamo tanto comunque dall'altra parte ce l'hai se cancella corre il giro perché tanto dall'altra parte ti è rimasto usiamo solamente quello che ti serve perché questo serve via via poi facciamo piazza pulita e puliamo un po' il progetto e buttiamo i dati che non ci servono poi cos'è che serve allora col volante lì quella piastra lì quella quel non so come si chiama però quel volante questo volante qua no no il ecco il bracciale quello lì dove c'è il bracciale verde quello lì probabilmente ci sono attivi due eh stavo guardando che sono sopra c'è uno grigio e uno rosso stavo guardando c'è qualcosa che non va qua il rosso deve andare via questo è quello che comanda il rosso deve andare via quindi questo lo fai sparire va bene via poi è rimasto questo grigio questo qua che è quello che avevamo modificato prima delle vacanze ok e tutto il resto resta che ci serve come riferimento penso sì 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 allora allora quindi questo è quello che effettivamente hai già fatto costruire o comunque sì esatto che ho già quello che comando insomma quello che è reale che esiste no sì ok per cui comando questo qua sì e tutto il resto segue giusto sì qua è già stato assemblato correttamente sì posso fidarmi c'è gli spazi sì sì non abbiamo avuto problemi ma qua posso fidarmi ok va bene allora questo comanda buono questo non lo tocco e faccio comandare questo per cui io questo lo devo mettere in mezzeria alla macchina sicuro cioè io sto qua devo utilizzare sì sì giusto deve stare in mezzeria alla macchina certo diciamo con riferimento del piano di mezzeria certo certo io comincio a capire se qua è un piano di mezzeria c'è un piano di mezzeria sì è questo probabilmente è questo qua questo qua è il piano di mezzeria sì quindi lo chiamo mezzeria me z r ok ok buono control v salvo chiudo questo lo posso anche cancellare perché non mi interessa in questo momento ok il piano di mezzeria questo qua ci servirà no in questo momento io lo posso nascondere sì nascondilo quello lì allora io quasi quasi quando voglio fare le cose un attimino meglio preferisco prendere queste parti e creare un sotto assieme così almeno lo gestisco come monoblocco quindi vado qua creo un nuovo sotto assieme ok quindi salvo ecco quando creo un nuovo sotto assieme mi crea mi crea una semi virtuale lo salvo internamente sì buone allora a questo punto io nascondo momentaneamente l'assieme e ci butto dentro in questo sotto assieme ci butto questo sì perché faccio dei sotto assiemi così così ho il vantaggio di trattare tutto come un monoblocco tutto gli spostamenti lo chiamerò ad esempio pr2 perché appartiene al progetto questo qua e poi lo chiamerò ad esempio pr2 poi lo chiamerò assieme 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 01 ok si e poi faccio salva l'assieme nel file esterno salva su assieme eventuali conventi figli si salva bene e poi questo qua lo fisso momentaneamente bene a questo punto io lo faccio così guarda adesso posso concentrarmi su questo cioè comincio a posizionarmi voglio essere sicuro che la mezzeria di questo sotto assieme innanzitutto lo libero da tutti gli appoppiamenti si perché magari vado in conflitto lo libero da tutti gli appoppiamenti che ha questo e questo è libero di muoversi e quindi adesso lo vado a vincolare sul piano di mezzeria la mezzeria di questo deve essere a parte deve essere coincidente con la mezzeria della mia macchina giusto? si così ho la certezza magari vedi che si è spostato di qualche millimetro fate a caso si prima vabbè comunque io stavo guardando questo qua mentre lo facevo per qui io lo assicuro adesso bene adesso ci troviamo questo esattamente in mezzeria si ok a questo punto che cosa facciamo eh ci teniamo l'altezza giusta ci teniamo questa altezza l'altezza va ad andare bene si va bene ok eh dobbiamo adesso vincolarlo adesso lui appartiene alla mezzeria e cosa succede che questo questo deve passare deve passare deve passare per questo foro giusto? perché vedi che c'è un po' di area qua cominciamo a sistemare questo quindi ehm isoliamo questo allora vediamo se questo qui è fisso si questo qui è fisso ehm questo qua lo posso fare anche fisso a questo punto perché non voglio che mi si muova se l'angolo è corretto controlla tutto controlla tutto controlla tutto perché ok ehm non voglio che mi si muova per cui io questo qua posso anche farlo fisso adesso buono quindi io voglio do una controllata un attimino e seziono qua perché voglio essere sicuro già lo vedo a occhio eh si si vedo già a occhio si vedi che ci balla dentro cioè no c'è un'interferenza vedi qua c'è aria qua c'è un'interferenza ok per cui noi cosa faremo adesso isoliamo questo tubo e questo e così possiamo lavorare più tranquilli più in tranquillità e dobbiamo modificare questa parte modifio questa vedi che quando si divulga si duplica il progetto le modifiche si fanno anche a cuore leggero perché tanto sappiamo comunque che abbiamo una sicurezza che c'è ancora il pezzo originale si 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 anche questo è un altro motivo per duplicare i progetti serve modifica la parte vado a prendermi la parte andiamo a capire com'è fatta sta parte qua ehm schizzo è uno schizzo 3d bellissimo modifico i schizzo 3d sono un po' pericolosi mi sono stati attenti a come si lavora qua quindi ehm questo schizzo 3d dobbiamo farlo passare per l'asse di questo vedi qua innanzitutto tolgo tutti i vincoli perché mi impediscono di lavorare questi vincoli qua no? e poi non capisco per quale motivo e ci sono due segmenti eh perché non lo so perché l'ho fatto io vabbè sono arrivato fuori lì e poi vabbè io ne tolgo uno non mi sembra il caso di avere un segmento certo sì però aspetta toglielo aspetta non vuoi essere così frettoloso lasciamo stare un attimino ehm per ora voglio dire che questo in questo momento questo vincolo lo cancello questo vincolo lo cancello e io voglio adesso visualizzare che cosa? voglio visualizzare gli assi provvisori questi perché l'asse provvisorio che è questo che passa per il cilindro deve essere collineare coassiale con questo segmento chiaro il motivo no? sì sì quindi adesso cosa faccio? faccio così questo punto qui adesso non so neanche io se devo fissarlo oppure no io per sicurezza fisso il centro di questo perché ho paura che se non lo fisso mi va ehm devo vedere anche io perché in questo momento dico che questo e questo sono collineari aspetta un secondo questo e questo non mi da la collinearità mmm interessante facciamo così allora guarda dobbiamo togliere un po' se facessi così invece ehm ehm non mi da la collinearità ehm un attimino ehm come potrei fare e se facessi così e se facessi così e se facessi così probabilmente spostando quella diciamo l'asse sull'asse virtuale diciamo e cambia anche l'angolo della curva? cambia eh è facile cambia anche l'angolo della curva un attimo un attimo perché non mi da la collinearità io mi aspettavo di trovarmi raggio ehm mi aspettavo che lui mi muoveva questo qua mi stavo aspettando io sì e invece non me lo fa fammi riflettere un secondo come posso fare ehm ehm aspetta questo è lo schizzo e se modificassi lo schizzo 3D dove è qua schizzo aspetta un secondo ehm ci sono gli schizzi che mi servono ehm hai lì in qualche altra finestra no quello degli schizzi no no eccolo qua perché sì 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 qua eccolo qua quindi io faccio vado qua seleziona punto medio seleziona comando recente ehm aspetta un secondo qua va così posso fare questo posso dire che questo è questo e questo ehm la tangenza mi sta bene questo non so che punto è questo qua non capisco che lo cancello io non capisco cosa serviva ehm questo probabilmente se cambio o di cancello un po' di vincoli probabilmente 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 non lo so se questo e questo no intersezionate non mi da il collineare ehm aspetta potrei fare così allora inserisco uno schizzo 3d e se tu fai facciamo un altro tentativo proviamo a fare così guarda prendiamo questo faccio una prova eh ok si gli dico che questo mi crea un punto mi crea due punti su questo piano ehm su questo piano mi crea un punto il punto lo faccio giacere al centro ok ok ed è questo punto poi mi crea un altro punto su questo piano inserisco un punto e lo faccio giacere qua al centro cioè mi crea due schizzi due punti sostanzialmente passanti per l'asse vedi 1 e 2 perché questo perché se faccio e dopo il mio obiettivo qual è adesso modifico la parte questa eh scusa ho sbagliato modifico la funzione questa non è questa ma è questa modifico questa funzione qua e dico che questo punto questo segmento e questo punto dovrebbe essere coincidente invece non me lo da perché non mi da la relazione di coincidenza si 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 ma non creare riferimenti esterni ah non è possibile creare riferimenti esterni ah perché le impostazioni sono diverse cioè non ti da la possibilità di creare riferimenti esterni ecco perché non me lo vedi il numero della possibilità in questo momento non è possibile creare riferimenti esterni ah sono impostazioni di solidworks ho capito eh qua negli assiemi ha la possibilità quando crei le parti di creare riferimenti esterni normalmente lui te lo permette su questo computer qua probabilmente o è stato modificato allora un attimo che adesso arrivo eh eh assieme ragiona salvo 9 componenti eh non scusa caricamento automatico sostenere costruzione ottimizza riferimenti esterni questo forse eh consenti 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 contesti multipli per le parti durante ok eh generazione automatica non creare riferimenti esterni al modello ma eppure non creare riferimenti esterni al modello no eppure non c'è consenti contesti multipli carica non chiedere scusate faccio un contro un s un secondo ripetiamo un secondo eh modifica questo e questo ah vedi 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 che è stato fatto adesso ricorrendo il coincidente boom vedi perché non era abilitata quella opzione allora scusami allora probabilmente se io gli dico di essere collineare questo asse con questo probabilmente funziona adesso uguale parallelo collineare vedi che funzionava anche prima solamente che io non mi sono reso conto che quella opzione era disabilitata perché di solito è sempre abilitata con l'opzione per quello che non capivo lo davo per scontato io che fosse abilitata i riferimenti esterni vedi che adesso è nero e questo segmento è esattamente collineare con l'asse e poi cosa fai questo vabbè tu lo hai fatto in due segmenti a suo volto lo fai collineare quindi cosa abbiamo adesso abbiamo un segmento questo qua nero che passa esattamente per l'asse mi segui e e poi prosegue il suo percorso e adesso abbiamo un tubo perfettamente concentrico con questo confermo il tutto esco nascondo gli assi provvisori che non mi interessa in questo momento vedi shift i quindi io premo shift i ok nascondo anche gli schizzi in questo momento non mi interessano per cui posso andare o qui oppure vado qua visualizza nascondi mostra gli schizzi vedi alt m per cui vai qua premi alt m nascondi fai un control s ok adesso vedrai che i conti tornano nel senso che se questo è specchiato vediamo come faccio lo specchio perfetto adesso cosa succede che se io faccio una sezione qui su questo piano dovrei mi aspetto di trovarmi di trovarmi tutto perfettamente concentrico aspetta controlliamo vedi è ideale adesso perfetto si va bene vedi adesso perfetto vedo questo rosso che c'è un'interferenza qua ormai è vero è vero è vero vediamo subito si e poi bisognerà modificare quel tu voli quello quello che scende verso il basso questo qua si allora innanzitutto diamo un occupamento di concentrico vediamo se è vero questo qui ma questi qua sono specchiati un po questo qua ma qua non ho nessun l'accoppiamento per cui posso fare così guarda ma questo qui l'accoppiamento ce l'ha qua allora questo io direi che e questo direi che mi dà la tangenza non mi dà il concentrico motivo questo sicuramente è un cerchio aria perché non mi da per quale motivo non mi dà scusate io mi aspettavo di trovarmi qua un cerchio diametro 40 si e questo invece cos'è raggio 20 05 si è un 40 comunque ah non mi dà ok non mi dà facciamo così guarda non so come mai questo e questo lo visero visualizziamo gli assi facciamo così visualizziamo gli assi gli assi provvisori vediamo cosa possiamo usare gli provvisori vedi qua ho l'asse ma qua non ho l'asse il problema è qua il problema è qua perché non ho l'asse riferimento ecco vedi qua ce ne sono due perché in realtà tu hai usato due segmenti era meglio un solo segmento perché ti ha spezzato vedi che ti ha spezzato in due allora facciamo così guarda vogliamo senza se non facciamo pasticci di tornare indietro facciamo così esci di qua mettiamole cosa posso un attimino questo qui lo riprendiamo allora prendiamo questo prendiamo questo prendiamo questo prendiamo questo isolo poi prendiamo questo prendiamo questo andiamo prenderci questo ok ci misuriamo quanto è giusto per avere un riferimento 115 adesso non mi ricordo se possiamo unire questo con questo non mi ricordo che cosa che forse avevo visto ma non mi ricordo se possiamo unire un po' negli schizzi avevo la possibilità di unire strumenti avevo letto da qualche parte mi ricordo una volta che c'è la possibilità di avevo letto una unione quindi sono inizio di schizzo di punto medio linea installamento arco strumento di schizzo forse curva intersezione accorcia allunga l'inizio di metri su sposta ripara schizzo creme schizzi allineamento unione vabbè non c'è problema dai ah lo puoi dividere lo puoi dividere lo schizzi in due ma non puoi unirlo no vabbè fai niente dai però non c'è problema facciamo così allora ci memorizziamo questo punto qua anzi forse facessi così magari ah se così questo lo cancelliamo un secondo sì e questo qua portiamo avanti più o meno qua questo è un segmento sì vediamo cosa succede ah sapevo io quello che succede qualcosa ah perché l'hai fatto perché lei l'avevi ancorato questo va bene e questo invece si è meglio che torniamo indietro meglio che torniamo indietro perché non mi ero accorto io perché è saltato perché tu hai ripartito di qui capito tu hai ripartito di qui hai fatto un segmentino e dopo sei partito io cancellando questo segmentino qua lo facciamo così guarda è chiaramente era meglio costruire in un altro modo questo faccio così vedo se riesco a sistemartelo senza scombustolare perché questo qua in realtà se lo cancello qua c'è un cerchio per cui se lo cancello lui non sa più non sa più per te riferimento vedi che lui cosa ha fatto lo schizzo questo e questo qui poi io l'avevo cancellato questo sì ma questo ti serve al fine del disegno perché al fine del realizzo del pezzo non cambia niente no no sai cosa posso fare cosa si potrebbe fare creo un profilo circolare uso questa funzione qui internamente quant'è il diametro è è uno cosa che è non mi ricordo allora non c'è problema è 40 esterno 40 esterno giusto 40 esterno allora faccio così guarda facciamo così e poi ci sono questi qua allora 40 esterno vediamo dai facciamo così 40 esterno per cui questo vado qui questo qua lo cancello lui si arrabbia sì poi adesso lui scompare totalmente va bene ma che se ne frega perché tanto faccio così guarda eh faccio il piano non mi interessa questo qua faccio così faccio così io non gli dico più schizzo questo ma gli dico profilo circolare quanto? 40 40 giusto? lo spessore lo spessore qua io ho uno e mezzo uno e mezzo qua fai due due perché era due poi mi sembra no no era un mezzo prima sì no no ma l'azienda mi ha fatto due perché uno e mezzo è troppo poco va bene quindi facciamo due confermo i fori li ha tenuti perfetto questo piano qua non ci serve più questo qua che lo vedi dobbiamo andare avanti per quale motivo lui aspetta un secondo parte dalla fine del segmento eh non capisco quale motivo questa zona qua non l'ha fatta c'è un motivo ah perché c'è un taglio hai messo un taglio te qua ecco perché questo c'era il segmento che tu hai accorciato nel portato sì sì io vedi che aspetta adesso va bene questo piano qua non so cosa serve forse l'avevi usato per fare lo schizzo ma a questo punto possiamo toglierlo però prima di toglierlo controlliamo la relazione padre figlio vediamo cosa prima di toglierlo vado a vedere e cosa succede se lo tolgo vedi se lo tolgo vado a cancellare questa funzione qui vabbè mi sta bene e poi questo qua non c'entra più nulla per cui io ti suggerisco cancella buono adesso abbiamo fatto un po' di pulizia vedi questo questo e questo così più ordinato vedi e vedi che adesso qua lui mi ha fatto mi ha fatto vedere l'asse hai notato sì e questo c'è utile perché c'è utile perché possiamo fare gli accoppiamenti con quello rosso giusto sì certo cioè sembrano tutte stupidaggini ma se non hai gli assi non hai i piani non hai le mezzerie ti si complica notevolmente la vita per cui adesso io cosa faccio quindi adesso ripetiamo questo e questo lo isolo ok ok quindi ho un piano questo è fisso mi domando questo è fisso sì è fisso perché mi domando se è fisso perché quando faccio gli accoppiamenti se questo qua non fosse fisso mi teneva fisso questo e mi muoveva quello nero ciò che io non voglio deve muoversi quello rosso ok per cui primo controllato vado qua vado qua vedi che adesso mi permette di fare l'incoincidente cosa che prima non mi permetteva chiaro vedi adesso sì che è un progetto fatto meglio vedi ok e poi idem qua probabilmente qua c'è qualcosa che non va vedi che eh sì perché spostando un uro la pietra e il tubo cominciamo cominciamo a definire questo e cominciamo a definire anche questo va bene sì quindi questo è fisso mobile questo è fisso lo rendiamo mobile perché deve muoversi in relazione all'altro giusto quindi io direi che questo e questo devono essere coincidenti perfetto vedi che adesso i conti tornano sì eh sono quei conti che due millimetri qua due millimetri là non potevi non potevi montarlo cioè rendeva impossibile il montaggio buono a questo punto chiaramente qua eh devi anche qua a sua volta renderlo coincidente per forza cioè se questi qua sono metallici questo qua deve essere per forza deve seguirlo giusto sì per cui questo e questo io lo isolo e poi sotto allora a questo punto no aspetta un secondo dovevi muoverci allora o muoviamo lo schizzo o teniamo fisso questo perché se io vado ad agiare a muovere a fissare questo qua mi va fuori mi segui sì in realtà devo muovere lo schizzo io o no sì ho paura che lì ci sarà da dargli una allora cominciamo cominciamo a rendere questi due collineari questi due rossi sì sì ok perché sicuramente sicuramente saranno coincidenti sicuro devono muoversi insieme è vero o no sì sì buono anche un po' di più sì così va bene sì una volta che abbiamo deciso che questi qua devono muoversi in questo modo e li fissiamo io prendo questo schizzo e lo adagio facendolo passare lungo l'asse è vero? sì quindi nascondo gli assi questi qua faccio un bel ctrl s faccio una f non so come allora questa posizione ci potrebbe andare bene sì come vedevo da davanti facciamo così allora un'inclinazione ma questi qua poi fanno capire questi qua sono simmetrici cioè si muovono in modo simmetrico ah sì è vero sì sì si muovono ok va bene va bene sì così magari sai cosa facciamo riteniamo a una distanza x rispetto a questo fissa cioè sì cominciamo a stabilire delle regole so da qui a qui mi tieni non so dimmi tu ipotizziamo un aspetta da qui a qui mi tieni quanto? una distanza di facciamo 15 facciamo 16 mm anche se dobbiamo guardare nella parte davanti 16 da qua a qua e 16 da qua a qua no? sì che dovrebbe essere la stessa distanza quindi possiamo fare così da qui da qui 16 sì buon dai ci siamo ci siamo possiamo anche definire l'inclinazione possiamo definire anche l'inclinazione sì corretto possiamo definire l'inclinazione sì vedi che si muovono adesso adesso si muovono ok ci avviciniamo a quella esistente o no o imponiamo un angolo noi oppure ci avviciniamo a quella esistente più o meno così e poi la fissiamo qui e modifichiamo questo schizzo facendolo passare per l'asse perché sì sì non basta il tubo abbassarlo leggermente per cioè come se lo tagliassi no vedi che qua hai dell'aria esatto vedi che qua hai dell'aria non è perfettamente concentrico allora se questo qua io credo che questo qua comanda nel senso che tu questo qua lo vuoi tenere fisso d'accordo ecco quindi teniamo fisso tutto questo il tubo cioè va su di qua va di qua lo teniamo fisso ok lo teniamo fisso l'ultimo tratto cioè questo partendo da questo raggio magari teniamo fisso anche questo partendo da qui lo alteriamo facendo in modo che questo passi sia qua sia con quelli rossi ok quindi il problema è il raggio della curva ma sì il raggio andrà adattato leggermente ma deve mantenere la carrucola che hanno in officina sì magari questo qua si diminuisce la lunghezza di questo segmento adesso non mi ricordo esattamente se avevo messo delle quote penso di sì sì perché loro hanno bisogno tra una curva e l'altra di spazio e quindi si tirava presente sia il raggio della curva che la distanza che c'era tra adesso vediamo vediamo qua come è che non mi ricordo allora prima di tutto questo 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 allora il raggio è questo anche qua due segmenti sì perché probabilmente io sono arrivato fino al centro dell'affareno lì e poi mi ero spostato per fare l'altro pezzo non chiedermi perché aspetta facciamo così guarda facciamo così guarda quanto era qua raggio 40 vero raggio 40 no scusa lo spessore il diametro esterno era 40 per 2 mm di spessore allora vediamo di fare cose come prima allora questi lo sposto e non mi spiego un secondo questo io il vincolo questo qua lo tolgo lo lascio libero questo qua lo lascio libero facciamo una cosa per volta e non mettiamo troppo carne al fuoco questo lo lascio libero la tangenza questo qua non ha era per il non ho capito era per questo direi di fare così guarda questo qua lo cancello gli do un po' di grado di libertà perché va a finire che altrimenti poi io cosa faccio visualizzo gli allora e poi cosa faccio questo è fisso va bene ecco quello fisso è questo qua mi sta bene quello che si muove è questo va bene quindi adesso visualizzo gli assi provvisori assi provvisori e come prima gli do un vincolo tra questo e questo di collineare ok erano due segmenti diventato uno possibile si è lunghissimo aspetta un secondo aspetta aspetta che c'è un piccolo pasticcio allora possiamo perdere questo lo metto fisso io a questo punto cioè non voglio che a questo punto si muova si allunga esatto è un po' delicata la faccenda qua questo questo aspetta uguale uguale questo facciamo così guarda la tangenza la possiamo togliere questo qua lo togliamo riproviamo a fare questo no interessante caspita eh perché probabilmente si muove solo quel peccino lì sì io facciamo così guarda io faccio così faccio così faccio così faccio così ma forse questo qua no è un segmento questo qua tra l'altro questo e questo no perché fisso questo caspita lì ho sbagliato io probabilmente ecco vedi ho tolto fisso questo io pensavo che fisso agiva da fulcro invece tissa proprio non lo muove e lì l'errore che ho fatto va bene allora posso dire che questo io lo butto in tangenza posso dire che questo e questo lo butto in tangenza eh questo e questo coincidente e poi magari taglio questa roba qua e poi magari questo e questo tangenza oltre a essere coincidente anche in tangenza dovremmo esserci così ho visto un peino che viene fuori da non c'entra niente se ingrandisce dove nel punto dove c'è il raggio vedi che ah no ma questo è la quota non è la quota che è fuori ok per cui questo adesso è collineare con l'asse e in tangenza questi qua sono uguali dovremmo esserci incrociamo le dita boom sì perfetto sì sì aspetta adesso è una cosa che devo controllare però è che sia 40 ecco a me non piace così preferisco fare così guarda profilo circolare preferisco usare questo sistema qua non mi ricordo ma è 40 vero? sì sì 40 io preferisco quando è semplice preferisco usare questo sistema non dare gli dico profilo circolare gli dico 40 e gli dico che cosa 40 interno esterno aspetta 2 mm mi dicevi sì 2 mm di spessore sì è interno allora così quindi 40 esterno per 2 mm di spessore così vediamo se è vero controlliamo perimetro diametro 40 vedi? sì vedi che funziona ok esco bene dovremmo aver finito facciamo un bel ctrl s per salvare dopo vabbè finito ci sono messi in tavola da aggirare vabbè però il 3d è a posto per ora nascondi mostra o non te ne frega niente cosa? adesso in questo momento tanto le piastre sono libere adesso vedi voglio controllare una cosa voglio controllare che tutto che sia esattamente la sezione non sia perfettamente concentrica vedi? sì 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 perfetto direi vedi che è perfetto? sì cioè così è da un punto di vista geometrico ideale ok passa per l'asse fa la sua curva fa la sua curva e arriva dentro concentrico nell'asse per qua bisogna essere chi piega cioè deve essere abbastanza bravo per piegarla ma che? infatti con le macchine CNC non dovrebbero avere problemi buono ok a questo punto le due piastre di sostegno del volante del motore queste vedo che sono leggermente spostate c'è chiaramente sì 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 le spostiamo anche queste allora ma un altro modo per fare con la piastra perché loro sono trovati in difficoltà per fare quel supporto lì non sono riuscito a farmi la cosa devo farmi la saldatura ah non hanno piegato beh certo perché qua arrivare giù con la piegatrice con un coltello fino qua in fondo fa fatica poi c'è anche questo devi fare un due pezzi qua sicuramente infatti mi hanno fatto due pezzi mi hanno fatto una saldatura e poi l'hanno fatto in due pezzi e poi l'hanno saldato qua probabilmente solo che non ho praticamente la parte dove non c'è la base con l'asola praticamente mi resta leggermente più alta aspetta guardiamone cosa che tu invece avevi fatto in modo di farmi la la stessa allora vediamo un po' un attimino qua allora questo qua tolgo un po' l'aspetto un secondo che voglio vedere qua ok quindi ctrl v salvo e chiudo a te serve un supporto del genere sto pensando come si potrebbe fare si potrebbe fare una base come quella un po' più stretta ma no potrebbe fare un altro modo potrebbe andare fare così no perché lo vuoi aspetta è di un attimo pensarsi fare un'altra costruzione un'altra costruzione che abbracci fatta di laniera si potrebbe fare questo più basso vai giù così fai così fai così eh perché è troppo alto qua e devono arrivare col coltello fin qua capito lì il problema sai cosa si potrebbe fare non so se vuoi te lo faccio al volo ti faccio vedere cosa pensavo cosa si potrebbe fare eh fattibile eh nel senso di ramire no eh guarda eh facciamo così guarda io prendo questo qua come riferimento allora vado giù vado qui vado qui vado così il problema è risolto faccio così guarda eh aspetta allora ti creo un nuovo ti creo ti creo una nuova parte c'è così allora io pensavo si potrebbe fare così prendi questo prendi questo allora eh anzi no faccio ti faccio una parte nel contesto dell'assieme così faccio prima guarda ho cambiato idea cos'è questi due millimetri sì sì allora isolo questa parte qua un secondo vado qui vado qui il foro ce l'ho qua giusto? sì perché salto su ok quindi potrei fare così inserisco che cosa inserisco? una nuova parte la appoggio su questa faccia e comincio a fare una linea che rappresenta diciamo che rappresenta il mio il mio la mia la mia la mia faccio così faccio così faccio così e qua dopo dove si appoggia no? sì famelo anche dall'altra parte un po' più corto allora adesso lo sto abbozzando è giusto mi fai una base dove appoggia anche dall'altra parte dall'altra parte di qua io magari no io pensavo aspetta un secondo io pensavo aspetta la lamiera ce l'ho esternamente qua più o meno questo qua ipotizzo allora se questo è 40 esternamente noi faremo 41 vabbè scusate 41 cosa ho detto 41 ok poi poi cosa ipotizzo ipotizzo che dal centro al punto medio questo questo qua lo voglio verticale così sto nel punto medio e poi qua gli lascio un po' di aria ipotizza io la lamiera ce l'ho esternamente no? non so posso fare così 2 mm abbiamo detto no? adesso ti faccio vedere il spessore sì sì 2 mm qui facciamo tiriamoci fuori la lamiera lì no 2 mm mi sa che era un po' più spesso 3 mm non deve flettere forse l'abbiamo fatto anche da 0,5 possibile no no lo spessore della lamiera sarà 2 mm 2 mm che vuole che vada inserisci allora ci cerchiamo le lamiere inserisci una flangia base ok in direzione opposta dall'altra parte spessore spessore 2 mm ok raggio interno boh facciamo anche un millimetro raggio interno k beh per questo facciamo anche 0,3 mettiamo 0,3 0,4 0,4 ok ipotizzo 100 mm magari facciamo due fori non uno perché uno tende a fulcro due fori ci vogliono si no no deve fare la fulcro quello lì ah deve fare la fulcro va bene allora si deve muovere quindi lo spessore secondo me nel punto basso deve esserci lo spazio per poter muovere quello lì ah ok va bene allora sì un pochettino sì perfetto buono ok esco la isola era perché tu l'hai fatto sotto l'hai fatto chiuso no io l'ho fatto parallelo ah non l'ho fatto sì dopo l'ho fatto chiuso per cui adesso ho capito l'ho fatto chiuso però per cui non posso alzarmi io certo ho capito adesso perché hai messo questo qua certo non ci ho fatto caso aspetta è andata via la linea ok per cui eravamo arrivati dove qui ecco qui qui che mi dicevi che non sì io certo io poi l'ho fatto tutto passante sotto ma ho sbagliato perché non sapevo che bisognava alzarlo no non va bene così non va bene perché non avevo capito che questo fa da fulcro in questa zona per cui deve potersi muovere tutti e due devono potersi muovere ah ho capito aspetta allora sai cosa possiamo fare magari lo puoi girare sotto sopra adesso devo pensare un attimino a come farlo questo qua perché magari se lo facciamo più alto lo tagliamo forse fammi capire se questo qua non avevo capito che questo qua doveva girare quindi facciamo così adesso guarda facciamo così guarda muovo questo muovo questo modifico questa parte qua modifico lo schizzo non so è peggio farlo tutto intero lo alzo appena appena sì perché così si può muovere esatto la parte che fuori sotto è libero sì però lo muovo appena appena in modo che possa muoversi appena appena quindi qua col coltello entrano però fanno fatica perché è profondo capito non so se nel piegarlo qua fanno fatica perché è profondo è stretto e col coltello quando vanno in piegatrice quando ci mettono in questa posizione per piegare questo questo qua gli va contro è lì il problema perché è alto è alto è stretto in piegatrice a meno che non ti attrezzi con dei coltelli fatti apposta ma normalmente si infatti lui me l'aveva detto devo comprare un attrezzo che mi costa che mi costa cioè lo giustifichi il prezzo se hai una produzione di serie ma per uno non stai via cioè ti costa lo fai saldato punto sì sì va bene saldato va bene saldato era l'unica cosa che dopo le volte saldano me lo fanno alla stessa altezza cioè questo qua loro ve l'hanno fatto che risulta la flangia questa collasola praticamente è venuta un po' più alta no ma questo ho capito ma è l'esecuzione che hanno fatto che hanno sbagliato loro cioè basta chi salda deve saldarlo non lo ha capito che questo piano e questo piano devono essere con planare o lo fai di progetto già saldato per cui gli fai saldare due pezzettini tagliare di laser due pezzettini e poi gli fai saldare oppure gli dai questo pezzo e loro se lo modificano no no adesso glielo farò rifare quello lì ma ti posso chiedere una cortesia a livello estetico mi puoi fare lo stesso disegno della flangia interna aspetta che prendo il mouse su lato esterno questa qui me la puoi fare uguale sì sì no problem no problem guarda subito cioè tu vuoi che questa tu vuoi tagliare via tutta questa faccia qua con questa qua giusto no 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 al contrario voglio fare pur essendo più corto abbia la stessa forma di quella lì adattare questa a questa prolungare dici no perché l'avevamo accorciata perché si andava a disturbare l'anello io voglio questa forma questa curva questa curva che gli abbiamo dato coraggio qua lo voglio come questo ah però mantenendo questa distanza ah ho capito certo certo subito non l'avevo capito certo vuoi questa sagoma questa e questa la vuoi stare qua questa sagoma su quella lì ah certo no problem fai così guarda allora fai così su questa faccia fai su questa faccia fai uno schizzo ok poi ti per scoppiare esattamente prendi questa sagoma qua uno due aspetta uno e due non so neanche io se fai il raggio vabbè lo converti ok poi a questo punto togli questo togli eh buona notte togli questo vincolo togli questo vincolo lo trasformi in blocco oppure lo sposti da qui a qui ma proprio meglio fare così prima prima cancello questa allora faccia così guarda per fare cose più o meno giuste prima cancello questo questo cancella potrei cancellare la faccia oppure potrei fare inserisci guarda inserisci superficie faccia cancella faccia e cancello questa faccia e ripristino la geometria poi mi prendo questo faccio un bel modifico schizzo ok a questo punto cosa faccio prendo questo schizzo qui e lo sposto da questo punto a questo punto ok quindi fai un potrei convertire in blocco eh non so se convertire in un blocco oppure spostare direttamente lo schizzo no proviamo a spostare lo schizzo direttamente faccio così guarda faccio così guarda 1 2 sposta questo funziona qua sposta entità sposta entità da dove a dove da questo punto no spero un secondo che lo facciamo così guarda facciamo così mi serve a questo punto qua mi serve questo ok così almeno un punto di riferimento ok aspetta 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 no non mi piace così faccio così su questo punto gli metto un punto di riferimento che è questo che è questo che è questo ok questo e questo poi io sposto questo uno ok lo sposto da dove a dove da questo punto a questo punto qui vedi si e ho ripetuto questo e poi qua devo proseguire qua lo converto poi proseguo questo estendo l'entità estendo qua l'entità questa entità la estendo qua ok e poi qua devo fare un raggio qua la accorcio chiaramente qui adesso prendo devo tagliare questa questa zona qua giusto la parte eccedente e qui ah ho sbagliato scusa ho sbagliato aspetta prima di fare questo fare un attimo mi ho sbagliato prima di fare questo qua gli faccio quel raggio ma che raggio gli faccio devo andare a vedere che raggio è questo qua che non mi ricordo io raggio 10 per cui faccio qua un raggio 10 vado qui raggio 10 questo ok e a posto a questo punto prendo questo questo qua lo possiamo cancellare che non mi interessa questo qua lo cancello che non mi interessa prendo questo lo converto e taglio la parte eccedente quindi adesso devo buttare via questa sagoma quindi cosa faccio un taglio iota taglio fino allo spessore ok perfetto contro s perfetto così abbiamo ripetuto questa geometria l'abbiamo traslata e l'abbiamo ricostruito qui ok così vedi che è identico solamente che uno è più corto l'altro più lungo ok perfetto bene quindi a questo punto dobbiamo semplicemente mettere qua il concentrico quindi l'ultimo passaggio è questo isola cosa dobbiamo fare qua adesso prendiamo questa parte qui con questo allora quindi tutto accertiamoci che questa qua sia fissa sì per cui questa parte qua questa parte qua è concentrico come mai spero che sia qualcosa che non va qua ci sono delle distanze che non capisco sì allora questo qua cancelliamo questi coprimenti qua che dà un solo fastidio basta cancelli quindi questo è concentrico con questo giusto? sì poi però la ah qua c'è comunque la e poi deve stare in mezzeria immagino forse per cui faccio un accoppiamento di mezzeria perché il cilindro io lo voglio in mezzeria sì quindi questo allora ripetiamo bene questo questo e questo me li accoppi di mezzeria aggiungo ah perché qua si è arrabbiato aspettate non capisco perché non me lo dai mezzeria larghezza impossibile no c'è qualcosa che non va probabilmente perché secondo me è il concentrico che va a cozzare contro c'è qualcosa che non va 1 2 3 larghezza e lui me lo fa quando poi gli do il concentrico lui si arrabbia evidentemente questi fori qua non sono perfetti e vedi vedi che anche c'è qualcosa che non va su questi fori adesso devo capire bene che cosa non va però questo è 10 questo è 10 non capisco per quale motivo uno va a escludere che magari non sia dritti due fori non so il foro destro e il foro sinistro non sono in linea perché non lo permette perché non lo permette scusa devo essere voglio aggiungere l'occupamento e interrompere gli altri per conseguire operazione lui mi farà saltare l'accoppiamento questo qua probabilmente vedi mi serve capire un motivo però perché allora lasciamo stare per ora facciamo un cancello questo mi mantengo quest'altro preferisco mantenermi nell'accoppiamento qua di concentrico fammi capire un attimo il foro come hai fatto a farlo che magari è il problema forse è il motivo sì no non lo so vediamo un po' questo qua questo questo già c'è sul piano ah che l'hai fatto forse l'hai fatto no devi fare in mezzeria forse è meglio farlo sì forse voglio fare in mezzeria sì magari non è quello il motivo neanche però è meglio farlo in mezzeria meglio prendere il piano sì farlo passare per la mezzeria fai così guarda modifica fai così perché lì per fare un foro sul tubo il spero guarda scusami modifica il punto prende il piano quale piano questo e lo fai coincidente con con questo cioè ho fatto passare un piano sì mezzo lì così poi fai lo schizzo e poi faccio lo schizzo cioè magari sicuramente quello aspetta no ma non è detto dici no non è detto allora questo lo faccio prendo il piano destro e lo faccio parallelo a questo schizzo a questo piano qua non lo fa a questo asse qua mi serve un piano ah non te lo fa fare non me lo fa fare per quale motivo ah mi serve un altro riferimento che riferimento posso dare questo per un secondo per un secondo un secondo volevo capire per quale motivo gli dicevo di prendermi un piano destro ah perché forse non è non può farlo parallelo devo farlo coincidente forse aspettami allora mi serve un piano passante per questo asse primo riferimento questo secondo riferimento questo un problema cioè sto pensando perché non capisco c'è qualcosa che non mi torna e effettivamente mi trovo un po' di difficoltà non capisco come mai che caspita ah perché non è perfettamente è inclinato ecco perché ecco perché i piani non mi perché questo perché questo qui questo qui vedi che è fuori devi cambiare piano per forza allora niente capito dai facciamo così guarda questo lo sospendo momentaneamente io dico voglio un piano inserisco un nuovo piano un nuovo piano passante abbiamo un po' per questo e perpendicolare a questo si arrabbia si si arrabbia un piano passante per l'asse che altro punto posso dargli il centro gli do il centro perpendicolare gli dico no gli dico parallelo sembra una stupidaggine caspita ma in questo momento posso fare così guarda su questo piano qua gli inserisco un punto ve lo faccio passante per questo quindi probabilmente se faccia se inserisco un piano un piano passante per questo punto e per questo asse e per questo asse si e se facesse e lui me lo fa perché passa per il punto ed è perpendicolare all'asse ma in realtà non voglio questo piano in realtà voglio un piano che sia perpendicolare ci sono arrivato ci sono arrivato inserisco un piano che è perpendicolare a questo perché non me lo fa sì penso che l'avevo fatto in quel modo lì perché non rifiuto anch'io effettivamente ho un po' di difficoltà non capisco in questo momento eh sì io non riuscivo a capire allora sono partito dal piano dal centro però sai cosa posso fare così guarda mi è venuta un'altra idea posso fare inserisco un punto faccio inserisco guarda faccio così inserisco uno schizzo 3D un punto che è questo e lo faccio passare per il centro di questo a questo punto io ho due punti e buonanotte trovo questo esco ho questo piano ho questo punto e questo punto un piano passa per due punti no mi passano infiniti piani per due punti per essere completamente vincolato deve essere tre punti però posso fare così guarda inserisco un piano passante per il primo punto per il secondo punto lui dà errore perché sono infiniti i piani che passano per devo dargli anche un angolo magari lo faccio virtuale no no direi un angolo passato dall'asse perché sono infiniti i piani che passano per due punti ecco potrei dire il parallelo al piano a questo piano giusto no no perché questo qua non è parallelo aspetta un attimo ma sai che mi sto un po' di difficoltà in effetti a fare questa stupidaggine qua passante allora io voglio un piano questo un punto questo e lo faccio parallelo ma in realtà io non lo voglio parallelo non posso neanche dirgli questo altrimenti si sposta ancora eh vedi che punto e punto ah forse così così è un piano perpendicolare piano destro perpendicolare ah adesso ce l'ha fatta perché ha fatto ha preso questo piano e questo piano che lui ha generato è perpendicolare è passante per i due punti questo e questo e perpendicolare all'altro piano questo qui questo pensa a te quindi adesso quindi adesso posso fare posso fare così adesso quindi quindi mi posso prendere questo piano lo posso offset io dico tangente a questa superficie qui no scusami e e e e piano e lo voglio eccolo qua trovato questo questo è il piano che mi serve non mi hai trovato sì abbia fatto un po' un giro per trovarsi questo piano qua non mi interessa lo posso nascondere va bene adesso ci siamo ci è voluto ci è voluto un po' in realtà è questo il piano su cui mi appoggio per fare il foro sì e questo qui questo qua lo posso anche nascondere questo qua io lo posso anche nascondere non mi interessa quindi è questo il piano che a me serve quindi su questo piano qua faccio un cerchio riputizzo di farlo qui per esempio da 10 no sì adesso vabbè non so sarà qua più o meno più o meno sarà qua ok adesso lo faccio passante il foro adesso incrociamo le ditte e vediamo che tutto funziona quindi questa roba qua la posso cancellare che non mi interessa quella che ho sospesa mi rimane questo ctrl v salvo e chiudo va bene quindi questo posso andare di qua perché non va su perché adesso non si muove perché è vincolato per quale motivo allora questo ripetiamo da capo questo cancello ok adesso adesso lui si può muovere dove vuole ok quindi adesso ripetiamo se tutto funziona dovrebbe essere questo e questo concentrico e non si dovrebbe lamentare a questo punto io devo centrarlo devo centrarlo in mezzeria al tubo giusto si quindi cosa faccio adesso questo questo e questo vedi però vedi che tocca quando si inclina non va bene vabbè a me interessava la geometria che tornasse prima andava in conflitto ti ricordi prima che un accoppiamento andava vabbè adesso lo sposto vabbè adesso lo sposto il foro che mi frega qua basta cambiarlo però vedi che adesso non dà problemi era il foro che avevi fatto prima che in qualche modo era il piano che tu avevi utilizzato che non era perfettamente sì sì ma ero sicuro che era quello io ok per cui questo e questo facciamo 10 forse è un po' tanto 10 15 fai 15 15 salvo contro contro u salvo e chiudo buono ci siamo ok adesso se lo fai girare non tocca no o tocca no non tocca niente scherzi ok perfetto così così si ma così si va bene così si è già fuori così va benissimo ah tu lo fai così orizzontale più o meno si eh si ho capito dai fai un shift c per comprimere fai un control s per salvare un control 7 per andare in uso metrico e dopo questo qua lo cancelliamo e lo ripetiamo qua via ok e dopo facciamo una rispetto d'olio poi utilizziamo la mezzeria facciamo inserisci specchi componente questo componente mano opposta chiaramente avanti ancora una volta aggiungi prefisso no li metti personalizzati lo chiami come ti ho detto lui aggiunge lui aggiunge l'uno questa volta invece ha aggiunto il due per quello motivo forse esiste già vabbè comunque insomma PR2 P2 cioè esiste già l'uno probabilmente ma quando c'è adesso il 2 io faccio trattino S1 che vuol dire specchia lo specchiato oppure semplicemente S che sta traspecchiato quando c'è la S puoi dire così quando c'è il codice seguito da un trattino S o da S vuol dire che è specchiato ok trattino S oppure SP specchiato che difficilmente utilizzerai il codice SP quindi faccio avanti propaga proprietà visuale propaga la parte originale confermi ok controllo S e adesso quando lo muovi giusto quando lo muovi direi che probabilmente si muovere insieme se poi adesso fai comparire il tutto bisogna dare un po' di accoppiamenti qua probabilmente perché saranno saltati adesso non so se non saltate oppure comunque questo è fisso per ora chiaramente era fisso e quindi bisogna adagiarlo qua così adesso lo adatto appena appena giusto si va bene così va bene lo stiamo lì ecco poi con la piastra lì poi vediamo una seconda tranche diamola un'altra botta perché si la allarghiamo dobbiamo allargare con la piastra lì e basta la piastra che tiene sul volante la piastra che tiene sul volante ah questa appoggia il volante si va allargata perché adesso ne do il metro qua beh attualmente ah si ce l'ho praticamente le due alette le due stafche che sosteggono il volante pisandolo sono larghe io qua ho 234 ecco io la la staffa che sostiene il volante l'asola è a 19 tra diciamo l'interasse delle due asole 19 che lì non c'è disegnata ah non c'è disegnata sul ah il disegno lì considerando diciamo il centro della piastra cioè tu vuoi sotto allora facciamo una cosa isoliamo questo questo quindi tutto prima di tutto gli do un valore a questo di parallelismo questo e questo devono essere paralleli ok ah perché si è arrabbiato come mai parallelo c'è qualcosa che non va non lo rende parallelo perché c'è qualcosa se non so dirti il motivo forse perché non è nel piano sai cosa fai così forse non è che è eh no perché lo lascio mobile perché magari qua è sicuramente comunque così va bene diciamo sì devo controllare qua che se esattamente non mi fido tanto adesso è parallelo deve essere parallelo in mezzeria ovviamente sì per cui vediamo se c'è una mezzeria qua è meglio che la creo aspetta vedo che non c'è una mezzeria per cui meglio crearla inserisci geometria di riferimento che aggiungo di riferimento un piano e mi auguro che se io prendo la mezzeria di questa piastra ho anche la mezzeria a parte che qua vedo che non è perfettamente forse appena appena sì quindi questo è il piano di mezzeria della piastra mezzeria ok questa è il piano di mezzeria della piastra di qua e qua a questo punto posso dire che il piano di mezzeria della piastra cioè c'è anche quello del motore forse ti conviene così speciale ma sì ma se uso la piastra poi super cambiano adatto il motore ormai ho usato il piano della piastra che va davanti a 32-33 ok ok questo e questo lo tengo in mezzeria chiaramente bellissimo dai laggiù vabbè è un problema sì devo dare anche dei vincoli qua perché evidentemente c'è qualcosa che non va qua evidentemente c'è qualcosa che non va c'è un parallelismo che non gli piace c'è da sistemare questo assieme qua perché non è proprio allineato con un centro non è proprio perfetto c'è qualcosa che gli va là dentro diciamo che quello lì devo sistemare sotto assieme per prendere delle misure ma non è che penso che non sia fondamentale no è però è meglio avere tutta la giornata perfetta c'è anche qua il motore in mezzeria sì sì esatto quello che diciamo c'è la mezzeria la mezzeria della piastra deve essere coincidente con la mezzeria del motore giusto? sì immagino che la mezzeria del motore sia questa sì quindi se io faccio questo e questo coincidente no ho sbagliato scusa ho fatto una stupidaggine aspettate un attimo devo prendere questa mi auguro che la mezzeria sia quella con la mezzeria del motore quindi io prendo questa e prendo questa me la coppio così ok quindi abbiamo la coincidenza va bene adesso dovremmo esserci qua adesso il motore come sarà ancorato? ecco è ancorato con due staffe laterali al motore io qua non le vedo non ci sono infatti perché non pensavo e queste staffe che diciamo si mettono al lato del motore i suoi misurando l'interasse delle due asole destra e sinistra hanno una larghezza di 19 sì ho capito poco di quello che mi hai detto va bene mi fai una foto e me la mandi e te lo disegno no no ma era soltanto per calcolare la larghezza poi con la roba lì non so come vai allora vabbè allora passiamo così guarda control v salve e chiudo ok hai capito eh non stavo pensando a nulla all'orange tag ok questa è la mia faczione qua si non lo segue e vorrei capire il motivo per cui adesso va in conflitto è un po' ma porca cane eh devo sistemare c'è qualche piano che quando metto la coincidenza boom lo butta fuori perché non è perfettamente c'è qualcosa allora facciamo una cosa guarda lascio stare per ora lo appoggiamo lì così e dopo una volta prossima ci piacciamo con calma ok perché c'è un piano non so quale che nel momento in cui gli do la coincidenza me lo butta fuori e vedi che anche a te che va fuori c'è qualcosa che non non gli piace qualcosa che non va vabbè niente allora facciamo così guarda per ora penso che per oggi è abbastanza che dici sì direi di sì abbiamo fatto un bel lavoro abbiamo messo a posto un po' di cose e il grosso abbiamo fatto se noi adesso facciamo un confronto col progetto originale ti ricordo che prima avevamo fatto ok perfetto qua come mai non si vede ecco perché è nascosto così facciamo così guarda visualizza visualizza mostra nascosto facciamo tutto così c'è il progetto vecchio e il progetto nuovo così non abbiamo distrutto il progetto vecchio l'abbiamo duplicato e così puoi vedere puoi vedere la differenza ok sì sì va bene dai io direi che per oggi mi sembra sufficiente sono un po' direi sono un po' cotto e si salvo tutto e dopo ci rimane da fare le messe in tavola altro da fare cosa dovevi fare ancora mi sembra il disegno al cui sono fatti questi qua sono già tutti fatti le piastre quelle lì di alluminio le teniamo le abbiamo tenute giuste ci sarà da modificare la base del volante che deve essere più larga deve allargarsi ho visto che è un po' stretta adesso ti ho dato delle foto al limite poi se hai voglia di aver guardata e niente e i tubi che erano storti cioè che non si incastravano si c'è da rifare la messa in tavola dei tubi esatto poi facciamo la messa in tavola dei due tubi e da rifare da mettere a posto un po' le quote delle tavole si esatto e quindi niente poi gli rimando su se mi fa solo i quattro tubi e così dovrai riuscire a montare il primo va bene dai ok io finiamo qua adesso chiudo la registrazione ti mando la registrazione nuda e cruda così e poi magari vedi un po' se mettiamola su youtube magari la tagliamo insomma vediamo vedi te insomma dopo ci vediamo ok adesso te la mando nuda e cruda così te la riguardi con calma e magari vedi cioè anche di imparare come usarla un po' meglio insomma sì sì mamma mia veramente a parte che ci mancherà di altro ah però sai a forza di guardare un po' impara ah sicuro sì sì se guarda due o tre volte il video poi la prima volta ti sembra strano la seconda volta ti sembra più familiare la terza volta ah sì so già come si fa capito è normale così va bene ok niente ci aggiorniamo ok ciao 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 la prossima ciao 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 ciao